I binari della Roma Lido sono invasi dalla vegetazione e l'intera rete ferroviaria avrebbe bisogno di importanti interventi di manutenzione. Viaggiare sul nostro trenino è sostanzialmente pericoloso sia per i passeggeri che per il personale ATAC. A lanciare l'allarme sono le associazioni Trasportiamo e l'osservatorio regionale sui trasporti. Quello che può sembrare un problema semplice di poco conto può in realtà nell'esercizio creare invece dei problemi. Quando si parla di sicurezza, la sicurezza comprende tutto, dallo stato dei treni allo stato di manutenzione dell'infrastruttura. Specificatamente problemi al personale perché possono non vedere i segnali bassi, quelli che servono per manovrare i treni tra stazioni oppure tra deposito e stazioni. Altra cosa, la manutenzione, l'erba alta lungo i binari può anche in caso di interventi sul binario, in caso di interventi sulla linea aerea, gli operatori potrebbero avere problemi. La terza cosa, quella fondamentale, è che quest'erba tra poco si seccherà e ovviamente se dovesse andare al fuoco si potrebbe costituire un problema dell'incolumità per il personale e per l'utenza. La manutenzione completa dell'infrastruttura spetta all'ATAC, secondo il contratto di servizio tra ATAC e Regione Nazio, ancora in esse. All'articolo 2,2 del contratto di servizio c'è scritto che l'impresa, ossia ATAC, si deve occupare della manutenzione dell'infrastruttura e tra le manutenzioni c'è ovviamente la pulizia. Abbiamo saputo che c'è stato un bando, aggiudicato da poco da ATAC, ma che questi non è stato firmato dal Presidente uscente. Quindi abbiamo un bando che praticamente è fermo, sta lì nei cassetti di ATAC in attesa che il nuovo Presidente a dimottura lo firmi. L'Adomalito, essendo una tratta che passa abbondantemente nel verde, particolarmente vicino a Ostia, in aree boschive, evidentemente è ancora più soggetta a questi problemi, sia a livello di incendio, sia a livello di caduta di alberi, come è stato recentemente su questa linea. E' chiaro che un monitoraggio più attento richiede una gestione del patrimonio globale, non solo evidentemente di ATAC, ma anche dei proprietari, anche della Regione, anche degli enti locali. Ma è solo così che si risolvono a lungo andare problemi che all'inizio sembrano piccoli e poi si ingrandiscono. Le due associazioni chiedono quindi rispetto del contratto di servizio tra Regione e ATAC, così da salvaguardare la salute di tutti i frequentatori della Romalido.